ho nella lingua madre il napoletano che non ci accida nessuna l'anno scorso con mio stupore ma anche con grande piacere ne ho parlato poi con il tuo procuratore mario giuffredi ho visto che hai postato su instagram la mia frase non ci accida nessuna però adesso ne devi coniare una tua e solo tua non ti puoi appoggiare su quale sarà la tua frase napoletana per inneggiare insomma la carica ai tifosi non lo so non ci accida nessuno ti piace come come lo dici non ci accida nessuno può migliorare come lo dici tu non ci accida nessuno fammi sentire non ci accida nessuno meglio di non è è titolare lui è riservo grazie Alessandro abbiamo qualche secondo Fabio domandami il capitano intanto penso che che giovanni sia uno un giocatore